Io mi immagino uno che torna dal pranzo di Pasquetta e arriva a casa e vede i risultati della giornata di Serie B di oggi, dice è uno scherzo d'aprile, è un pesce d'aprile, è un fotomontaggio e invece ragazzi è tutto vero, è davvero tutto vero, è successo di tutto in una giornata come sempre che ci dimostra che questa Serie B è imprevedibile. Pochi punti tra rischiare la C e andare in Serie A, risultati inaspettatissimi, come sempre davvero questo campionato ci esalta e ci fa veramente divertire. Vi dico i risultati, poi andiamo ad analizzare la classifica, Modena Bari 1-1, Como su Tirol 2-0, Cosenza Brescia 1-2, Lecco Cittadella 1-1, Parma Catanzaro 0-2 e qui siamo al primo, Pisa Palermo 4-3 e qui siamo al secondo, Spezia Ascoli 2-1, Venezia Reggiana e qui siamo al terzo, 2-3, Cremonese Ferrapi Salò 0-1 e siamo al quarto e buona e ottima vittoria della Samp finita proprio qualche minuto fa, 4-1. Andiamo, andiamo a vedere appunto la classifica, non più mi avete evitato di iscriverti a capire mi piace, quindi di commentare, ho portato in post partita appunto di Parma Catanzaro, se vi va andatelo a vedere, grazie a tutti quelli che appunto mi seguono sempre, se siete nuovi scrivete nei commenti chi siete, siamo vicini ai 3.100, magari ci arriviamo con sto video, dai, non vi costa nulla, iscrivetevi al canale, attivatevi a capire mi metti un piaccio, commentate, seguitemi su TikTok, su Instagram, tutte le altre cose, Montonere Facile, mi trovate per tutto, i link sono in descrizione, dai che anche su TikTok voglio portare le live e arrivare a mille. Andiamo appunto, Lecco, ventesima posizione, ragazzi, questo vi trovo di dire Lecco, il Lecco ci pareggia col Cittadella, una partita che era l'ultima, l'ultimissima ormai spiaggia per poter far salvare i Lombardi, non ne approfitta, pareggia appunto in casa una a uno col Cittadella e è l'unica squadra che secondo me non ha più niente da dire al campionato, non me ne vogliano quelli che seguono il Lecco, che seguono anche me, dispiace, ma 8 punti dalla penultima, 7 giornate dalla fine, sono davvero, davvero, davvero tanti. Quindi niente per il Lecco da fare, neanche oggi, la prossima con lo Spezia, altro sconto diretto, al picco tra l'altro, potrebbe essere l'ultimissima spiaggia, ma ripeto, per me è Lecco, ha già un piede in Lega Pro, mi dispiace, ma è così. Feralpi Salò, 19 posizioni, 30 punti, una Feralpi Salò che io ve l'avevo detto, non date per morta o per finita la Feralpi Salò, lo dico, lo dico sempre, l'ho detto che non è molto in un altro video, eccetera, eccetera, è vero, sì, inaspettatissima la vittoria di oggi a Cremona, ma è una Feralpi che non molla mai, che non muore mai, che vince appunto a Cremona, 3 punti fondamentali davvero, avvicina Ascoli e Ternana che oggi hanno perso e ora vede vicino quantomeno i play-out, perché la Ternana ha 32 punti ed è la prima squadra appunto che in questo momento farebbe i play-out. Complimenti alla Feralpi che non molla, che ci vuole provare fino alla fine a salvarsi, vedremo, vedremo quello che succederà, vittoria davvero, davvero importante in quel di Cremona. L'Ascoli invece perde, è un Ascoli che perde uno scontro velenosissimo contro lo Spezia, è un Ascoli che ha 31 punti, ora sì, per carità, è tutto possibile, ripeto, da qui in su è tutto possibile perché sono veramente tutte vicine. Fate un calcolo, il Brescia è ottavo, ha 42 punti, è la prima squadra in play-off in questo momento e la Feralpi che è la penultima, quindi sarebbe retrocessa, ne ha 30, quindi sono comunque 12 punti, non sono pochi, però calcolate la differenza tra l'ottava e la diciannovesima, insomma, è veramente cortissima la classifica, soprattutto fino al Bari, diciamo, dalla 14esima alla 19esima tutti possono andare su, nel senso salvarsi e tutti possono andare giù. So che sono ripetitivo, ma ci tengo a dirle queste cose perché molti probabilmente non ci fanno caso e bisogna, è qui di fianco o di qua o di là, non lo so, dopo dove ve la metto la classifica e la noterete anche voi. Quindi Anascoli che appunto perde questa partita importante contro lo Spezia, la prossima avrà il Venezia in casa, avversario tosto nonostante la sconfitta di oggi, quindi Anascoli lo vedo malino, malino di queste qui è quella che vedo peggio. La Ternana perde 4-1 contro la Samp dopo aver pareggiato, è andata sotto, ha avuto anche diverse occasioni per provare a riaprire la partita sul finale, ma poi viene travolta appunto dalla Samp lasciando anche spazi ampi dietro, è una Ternana che però secondo me anche essa può ancora dire la sua, come la Feralpi, la Ternana e lo Spezia per me sono 3 che potrebbero ancora salvarsi, ve lo dico senza paura a dire queste cose, è ovvio che se tutto va come deve andare, no, però la Ternana dal Talantino lo sapete, lo spero di portargli bene, ha perso, è una Ternana che è vero, nelle ultime 5 ne ha perse 3, non è sicuramente una bella cosa, però ecco, è una Ternana che comunque non mi è dispiaciuta stasera con la Samp, nonostante poi il punteggio sia più grosso di quello che in realtà secondo me si è visto poi soprattutto nel secondo tempo. Spezia, sedicesima posizione, vince, è uno Spezia che finalmente dà continuità, io ve l'avevo detto, lasciate lavorare D'Angelo e vedrete che farà bene, è appunto uno Spezia che vince uno scontro davvero velenosissimo all'ultimo sangue contro l'Ascoli, sono tre punti veramente fondamentali che gli consentono di agganciare il Cosenza e in questo momento potrebbe salvarsi, lo Spezia, io l'ho detto, se iniziano a capire che devono comportarsi da squadra grossa, perché ragazzi l'organico contro lo Spezia non è scarso assolutamente, è vero, hanno venduto parecchi, quello che volete, però lo Spezia non è da quint'ultima posizione, ecco, questo mi sento di dirlo, è uno Spezia che vince 2-1 con l'Ascoli, importantissima e settimana prossima avrà un'altra chance topica per fare il quinto risultato utile consecutivo e magari la seconda vittoria consecutiva, non me ne vogliono i lecchesi, ma Spezia Lecco è un match point da non fallire per provare veramente a evitare anche i play out per lo Spezia. Cosenza, quindicesima posizione, è un Cosenza in caduta libera, è un Cosenza che non vince più, nelle ultime 5 ne ha perse 3, ne ha pareggiate 2, è un Cosenza che perde contro il Brescia in casa, una sconfitta che ci può stare perché i, come si dice, i valori in campo sono diversi, però ecco, è un Cosenza che adesso deve stare davvero attento, rischia, come ho già detto, di buttare alle Ortiche una prima parte di campionato davvero buona. È un Cosenza che adesso vede lo Spezia che l'ha già agganciato e comunque la di dietro per sua fortuna Ternana e Ascoli perdono perché sono davvero tutte lì 30-34, quindi capite che dalla Feralpi al Cosenza è tutto lì. È un'altra che rischia perché se non si sveglia rischia è il Bari, è il Bari che pareggia Modena, per carità ottimo fare punti a Modena perché comunque il Modena, a prescindere, adesso sono molto vicino in classifica, però fino a qualche giornata fa si giocava molto meglio i playoff, è un Bari che appunto va a prendere un punto a Modena prezioso ma che anch'esso non riesce più a vincere. Io pensavo che Cogliacchini potesse svoltare il Bari, 35 punti, un solo punto dalla zona playout, Modena, Bari, scusatemi, Bari e Cosenza devono stare veramente attenti. Anche il Modena se continua così, però ecco, volevo dire Bari e Cosenza, adesso non so perché mi ha evidenziato il Modena, quindi dico Bari e Cosenza devono stare veramente attenti perché là di dietro basta un niente per capitombolare. Modena che appunto non approfitta di incontrare un Bari in difficoltà in casa non prende tre punti che l'avrebbero fatta stare sicuramente molto più tranquilla, agganciare la Reggiana, è un Modena che pareggia praticamente sempre un po' come la Reggiana, se non lo dico sempre, sono due squadre che pareggiano di più, però ecco, è un Modena che comunque sia quantomeno anch'essa non vince più perché anche loro tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque prossima partita, Ternana-Modena, sarà sicuramente un match da non perdere perché qualora la Ternana dovesse vincere andrebbe a 35 e arriverebbe a meno tre dal Modena, sarà veramente una battaglia da vedere e vediamo perché poi ha anche sbroccato, come si dice qua da noi, l'allenatore del Modena in conferenza stampa, andate a vedere perché troverete sicuramente il video contro i giornalisti. Como vince, scusate, su Tirol perde 2-0 contro il Como, è una sconfitta che ci sta perché contro il Como ci sta a perdere, a Como soprattutto è un su Tirol che comunque nelle ultime si era un po' ripreso, anche se aveva perso poi con lo Spezia, però insomma le buone vittorie contro il Lecco e la Cremonese soprattutto avevano fatto credere che su Tirol potesse forse anche ambire i playoff inaspettatamente, però è un su Tirol che in questo momento è tranquillo in dodicesima posizione perché comunque là dietro sono un pochino distanti, ma occhio ripeto, occhio vale per tutti perché là di dietro si fa molto presto a essere risucchiati. Cittadella terzo pareggio consecutivo, sì è vero Cittadella non vince però prima le perdeva tutte, quantomeno adesso si porta a casa punticino punticino, i punticini che servono per salvarsi, glielo auguro a Cittadella perché ha fatto veramente un campionato nella prima parte di stagione eccezionale per poi buttare un po' tutto alle ortiche, un po' come il Cosenza, comunque per una piccola realtà come Cittadella salvarsi se le vie come vince uno scudetto, quindi complimenti a questa Cittadella che appunto però pareggia contro il Lecco, ecco anche per il Cittadella è un'occasione persa, poteva tornare quella vittoria perché all'Ecco puoi anche vincere, andava a 41 ed era un punto dal Brescia, ottavo capite che qui veramente è tutto in divenire, non c'è niente di sicuro in questo campionato, è qualcosa di assurdo e quindi Cittadella appunto che la prossima se la vedrà con la Reggiana che in questo momento gli è sopra di un punto, una Reggiana che viene da un ottimo momento di forma, ha 5 risultati utili consecutivi nelle ultime 5, vittoria preziosissima in quella di Venezia, davvero preziosissima per gli uomini di Nesta che vedono i playoff veramente vicini e appunto nella prossima si possono prendere 3 punti che possono regalare il sogno ai Reggiani, chissà, vedremo comunque complimenti a questa Reggiana a Nesta e ai suoi uomini perché vincere a Venezia davvero non l'avrei mai detto, complimenti alla Reggiana che appunto vince 2-3 contro la Reggiana a Venezia. Pisa, nonna posizione, è un Pisa che finalmente sta nelle posizioni che io avevo detto nella prediction, non sono pisano nonostante i colori lì dietro penso che capite perché è squadra tifo per chi non mi conoscesse però ecco mi fa piacere vedere il Pisa lì perché per me aveva una squadra da playoff e spero che ci arrivi più che altro per la mia prediction o per altro e quindi è un Pisa che batte 4-3 a Palermo, una partita pirotecnica, roccambolesca, espulsioni, tutto quello che volete però insomma sono tre punti davvero d'oro dopo la sconfitta contro il Como veniva comunque sia da un buon filotto di risultati utili che per parte la sconfitta col Como ne ha vinte 3 e appunto ha perso contro il Como pareggiando poi col Modena è un Pisa sicuramente in netta ricrescita, 10 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte e appunto vede i playoff sempre più vicini, sempre nei playoff invece la prima squadra che c'è nei playoff, vuole dirlo ma c'è, è il Brescia è in ottava posizione, vince Cosenza, importante partita e tre punti davvero d'oro per le rondinelle, vincono, faccio fatica, io non so stoltanto come farò col Cesena, mi viene già male, dirò qualcosa verso la fine sul Cesena. Allora a parte gli scherzi, Brescia Cosenza 2-1 appunto è una vittoria importante che tiene comunque tutte lì perché ragazzi dalla settima alla decima hanno vinto tutte e quattro quindi Sandoria, Brescia, Pisa e Reggiana, sono lì che si lottano questi ultimi due posti per i playoff perché dalla sesta in su ci sono molto più punti di distacco perché dalla sesta alla settima ci sono ben sei punti di distacco e quindi è un Brescia che comunque c'è, che è lì, che a inizio campionato penso avrebbe fatto carte false per essere dove è adesso quindi vedremo come finirà. Sandoria quarta vittoria utile consecutiva, davvero è una Sandoria rinata, una Sandoria che adesso inizia davvero a sognare, a sognare in grande perché risolti un po' di problemi societari, un po' di cose, qualche infortunio qua e là che ancora ha tra un De Luca o un Fire che io ripeto questo qui l'avete criticato fino alla morte, stasera ha fatto tripletta per dirne uno, cioè è uno che per me può fare bene, Sandoria sta facendo bene, se non sbaglio il nono decimo gol è arrivato, forse il nono, non sono sicuro, comunque tripletta De Luca ha un Fire, 4-1 sulla Ternana, sì è vero ha anche rischiato qualcosina la Samp però ha strameritato secondo me la vittoria, voi ditemi cosa ne pensate nei commenti ma la vittoria è meritata, sì la Ternana non ha lasciato andare, dopo sì sulla fine sì il punteggio magari è più severo di quanto si è visto in campo però insomma è un'ottima vittoria per la Samp, è un gruppo che si vede legato, unito, 4 vittorie utili conseguentive quando ti devi giocare il playoff tra un mese e un mese e mezzo, possono essere qualcosa che può far sperare davvero il popolo d'Oriano, curva eccezionale anche stasera ormai non so più come dirlo e ragazzi io del Palermo cosa vi devo dire? 4 sconfitte nelle ultime 5, uno degli organici o delle rose più forti del campionato secondo me rovinate da un uomo in panchina, qui qualcuno mi aveva detto vabbè ma sei prevenuto, continui ad infamare Corini, oggi per carità non è colpa di Corini perché comunque c'è stata un'espulsione quello che volete però in generale ragazzi quando perde 4 partite nelle ultime 5 credo che il primo colpevole normalmente in tutti i campionati come in Serie A per la Juve, Allegri, adesso è sulla gratticola, adesso è da un po', Corini ci dovrebbe essere da un bel po', e invece la società continua a dare fiducia a uno che l'anno scorso gli ha fatto perdere i playoff, quest'anno gli sta facendo perdere una promozione perché con un altro allenatore per me il Palermo sarebbe secondo, io continuo a dirlo, continuo a pensarlo perché una squadra così non può che fare sicuramente meglio di quello che sta facendo, è un Palermo che appunto perde la sua quarta nelle ultime 5 dopo la sconfitta in casa col Venezia arriva questa col Pisa 4-3 inaspettata, a parte mia inaspettata, Palermo-Sandori alla prossima partita, attenzione perché con questa Samp qui, e la Samp rischia di andare a 46 e il Palermo a 49, si vede il fiato sul collo, vedremo, sarà una sfida davvero interessante da seguire, quinto posto, mi raccomando non ho nulla contro il Palermo, continuo a dirlo, c'ho la sua con l'allenatore, tanti problemi italiani mi seguono e mi danno ragione, quindi penso di non essere l'unico a vedere queste cose qui, Catanzaro, quinta posizione, 52 punti, una vittoria che fa sognare è una città intera, 2000 spettatori, ho fatto il post partita, vi invito ad andarlo a vedere, l'avete visto in tanti, vi ringrazio, se siete nuovi, ripeto, scrivete nei commenti, è un piacere di salutarvi e conoscervi tutti, è un Catanzaro davvero che sta sognando in grande, in tanti dicono vai in Serie A, vai in Serie A, anche oggi nei commenti l'ho detto, mettetevelo in testa, il Catanzaro va in Serie A, ecco, io non ci credo che Catanzaro vada in Serie A quest'anno, ma sicuramente venderà cara la pelle, questo sono sicurissimo, che Catanzaro da qui alla fine e nei playoff soprattutto farà vedere i sorci verdi a tante squadre, non penso andrà in Serie A, ma non perché, ripeto, assolutamente anzi mi state simpatici, lo sapete, siete tantissimi a seguirmi e vi ringrazio, ma perché per me Como e Venezia sono superiore al Catanzaro, vedremo, vedremo, se mi sbaglio benvenga, cioè nel senso non sono assolutamente qui a dire, a parte il Brescia e il Cesena non gufo nessuno, e poi porto male come vedete, perché il Brescia sta andando bene, il Cesena è dato in Serie B, quindi evidentemente è solo io che porto bene a quelli che lo devo portare bene, battute a parte, complimenti davvero agli uomini di Vivarini, è una gran bella squadra, gioca bene, oggi è vero, è stata anche fortunata in un paio di occasioni, traversa, ha tirato due volte nello specchio e due gol, mentre il Parma è stato molto sprecone, però queste partite se te le porti a casa e poi quando è l'occasione le segni e non le pari alle stelle, hai meriti di vincere, io l'ho detto nella post partita e lo ripeto qui, Cremonese è riconoscibile, due sconfitte inaspettatissime, 3-0 contro sul Tirol e questa è in casa con la Feralpi Salò, è una Cremo che stroppa dovrà sicuramente capire cosa sta succedendo, perché la Cremonese sta rischiando di buttare via un secondo posto che fino a tre giornate fa pareva molto alla sua portata, sicuramente alla sua portata, bisogna capire cosa sta succedendo davvero in quel di Cremona, perché è una sconfitta inaspettata vera ma anche dolorosa questa, potrebbe veramente far male perché ha perso contro due squadre sicuramente inferiori, su Tirol e appunto Feralpi Salò non me ne vogliono, anzi brave loro ad andare appunto a vincere contro la Cremonese, tra l'altro la Feralpi ha vinto in trasferta, quindi insomma non lo so ma a Cremonese che mi seguite cosa sta succedendo, ditemelo voi, Venezia terza posizione, un Venezia che non riesce a fare la terza vittoria consecutiva, trova questa sconfitta interna contro sì è vero una Reggiana che io lo dicevo sarà una partita tosta perché la Reggiana è una squadra che comunque sia quantomeno un punto te lo porta via spesso e volentieri, non pensavo il Venezia perdesse, sono sincero, è vero non c'è niente di compromesso perché a parte il Como le altre hanno perso però occhio, occhio perché il Catanzaro da dietro arriva e soprattutto se il Como inizia ad andare il secondo posto ciao ciao e quindi a Venezia che spreca un'occasione d'oro è vero, sicuramente è più capibile la sconfitta con la Reggiana che contro la Feralpi, ecco questo voglio dire tra le due, però ecco il Venezia veniva da due vittorie utili consecutive nelle ultime cinque, ha perso appunto solo contro il Como, va a perdere questa partita sporca per quanto sia contro la Reggiana, vedremo dalla prossima appunto contro l'Ascoli ad Ascoli se ne approfitterà e appunto vedremo cosa farà. Como a seconda posizione, Como che vola a secondo posto approfittando degli scivoloni delle dirette concorrenti e anche di quella che sta sopra di cui parleremo tra poco, è un Como davvero forte, è un Como che mi piace, è un Como che se inizia a avere la consapevolezza in Serie A ci va, io lo dico anche questo, qui qualcuno mi aveva preso per mi pigliavate per matto come dice qualcuno di più famoso di me e invece io ve l'avevo detto, il Como ha tutti i mezzi a disposizione per arrivare in Serie A diretto. Vedremo, vedremo cosa succederà, complimenti al Como, punto, quarta vittoria nelle ultime cinque e arriva la prima sconfitta in campionato per il Parma, prima sconfitta in campionato in casa, in casa perché ne aveva perse fuori. Non perdeva da tredici mesi, l'ho detto anche questo nel post partita, è un Parma che ha sciupato tantissimo, Man soprattutto ha sbagliato a diverse occasioni, non centrava lo specchio, ha trovato contro un Fulignati davvero in forma, on fire e complimenti a Catanzaro, gli ho già fatti, ma comunque è un Parma che secondo me in molti dicono ah ma attenzione alla crisi del Parma, la crisi del Parma, il Parma nelle ultime cinque ne ha vinte tre e ne ha pareggiata una, non è che perde tutti i giorni, la gente casca l'attenzione alla crisi del Parma, adesso si gioca, no, io non ci credo, è una battuta di resta che ci può stare contro una squadra che voleva vendicarsi dello 0-5 in casa subito l'andata, che ha avuto più cinismo, più precisione, boh, una battuta di resta che ci sta, la prossima va in quel di Bolzano, vediamo, ma secondo me il Parma può tornare sicuramente a vincere e comunque ripeto, per me il Parma con più sette può dormire ancora sonni molto tranquilli da qui alla fine del campionato e vedere sempre più vicina quella Serie A strameritata, perché comunque è un Parma che ha dominato il campionato secondo me e merita sicuramente la Serie A. Ragazzi, grazie per aver visto il video, ci vediamo prossimamente con i pronostici, quasi sicuramente giovedì o venerdì, uno di quei due giorni lì, comunque sì, tanto escono sempre quei giorni lì, pronostici Serie A e Serie B, mi sono dimenticato di dire una cosa importante sul Pisa, che dirò adesso perché mi fa piacere di dirlo, c'è stata la doppietta di Tramoni che tornava da agosto da un brutto infortunio, aveva fatto solo una partita, entra e segna due gol fondamentali nella vittoria appunto contro il Palermo, ci tenevo a dirlo perché quando i giocatori subiscono infortuni di 6, 5, 6 mesi e tornano e fanno gol mi fa veramente piacere, comunque sottolinearlo, me l'ho dimenticato di dirlo nel pesto del Pisa, spero che quelli del Pisa mi abbiano ascoltato fino alla fine. Come sempre mi invito a iscriverti al campionato, metti un piacere con i miei commentari, seguitemi, è tutto gratis, grazie a tutti gli abbonati, grazie a tutti quelli che mi vengono a seguire anche su Instagram, su TikTok, su tutte le altre piattaforme che trovate qua sotto, mi fa davvero piacere se mi seguite su tutte le piattaforme, ci vediamo presto, il vostro Monta, a domani con il video recap della Serie A e se vi va, oggi è uscito appunto il post partita di Parma Catanzaro, ciao, alla prossima!